Dopo due sconfitti è arrivato questo pareggio sul campo del notaresco terzo in classifica, un pareggio comunque utile per muovere la classifica? Importante per muovere la classifica? Per noi era importantissimo trovare la prestazione dal punto di vista motivazionale perché abbiamo raggiunto troppo presto il nostro primo obiettivo e quindi temevamo che ci potesse essere un calo dal punto di vista nervoso. L'aver affrontato un avversario così bravo giocando più o meno alla pari con le nostre occasioni e le loro occasioni direi che è certamente una nota positiva. Una partita non bellissima con poche emozioni? Devo ripetermi e quindi rifaccio lo stesso discorso, poche emozioni, secondo me ce ne sono state, però chi ha giocato? Io un po' ho giocato, le assicuro, giocare bene in un campo dove la pallina diventa un coniglio diventa difficile perché si perdono i tempi di gioco, perché il giocatore non può più giocare senza guardare la palla che arriva. Nel calcio moderno ormai i tempi di gioco sono totalmente cambiati. Una volta si poteva ricevere, quindi stoppare, alzare la testa, guardare, decidere. Adesso prima che ti arriva la palla devi aver deciso, mentre la palla è in viaggio. Qui non lo sai mai come viaggia e quindi diventa tutto più lento e favorisce la squadra che in quel momento non è in possesso palla e difende. Questa alla fine è uscito 1-0-0, non troppe emozioni, però se c'era una squadra che doveva vincere era quella del notaresco. Monti di fatto in pagella prende senza voto, mentre Chiodini comunque è stato determinante in alcune occasioni. Diciamo che abbiamo creato i presupposti per poterla portare da nostra parte, questo sì. Con un primo tempo, se non a ritmi altissimi, sicuramente a ritmi discreti per il caldo che poteva fare oggi, quindi volevamo indirizzarla sin da subito. Non ci siamo riusciti, sicuramente per errori nostri, per mancanza nostra, però il calcio è anche questo. Per il resto questa è la differenza tra prendere il volo per certe situazioni e invece magari continuare un percorso che sappiamo sarà lungo e duro fino alla fine, però i dettagli fanno la differenza in certe partite. Anche per colpa di alcune defezioni, seconda partita senza segnare, ma di contro sono anche quattro le gare dove non si subisce gol. Sì, in queste ultime partite stiamo pagando un po' anche le scolifiche che ci siamo combinati, quindi però non è una scusante, non ho mai creato allarmismi sotto questo aspetto, quindi con massima fiducia su chi va in campo, però sicuramente per quanto ci riguarda a volte ci condiziona nel dover cambiare modulo, nel dover fare delle scelte diverse e questo va un po' a incidere su quello che è lo sviluppo della gara o certe caratteristiche dei nostri giocatori, però questo non è nessun tipo di problema. Esordio del classe 2002 Goggo che nel finale poteva essere determinante. Sono contentissimo di quello che ha dato in campo, di quello che ha messo a disposizione, nonostante la sua giornalissima età. Si resta in zona playoff, ma ovviamente ci sono anche altre squadre che insidiano questa posizione. La continuità e l'aspetto fisico in questo momento può fare la differenza sulle restante sei partite, questo sì, e quindi chi avrà più continuità ha dei risultati e soprattutto di vittorie, credo possa riuscire ad emergere da questa griglia. Grazie.